Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio preparare un dolce, un plum cake con gocce di cioccolato e codette. È una ricetta di mia nonna, andiamo a vedere come si va. Eccomi qua. Allora, prendo la mia ciotolona mescolatrice. Uova, tre uova. Mi aiuto con l'aiuto cuoca. Gli albumi li metto nel mio Turbo Chef per poi montarli a neve. E invece i tuorli li mischerò con lo zucchero. Farina. Lievito. Adesso prendiamo il nostro Turbo Chef dove abbiamo messo il bianco d'uovo e iniziamo a tirare. Vediamo. E voilà, facciamo la prova. Non cade! E voilà! Morbidissimo. Ciao a tutti!